Alessandro, mancano pochissime ore all'inaugurazione di questa edizione 2022 del Dreamland, come avete organizzato l'evento? L'evento è organizzato su due serate che saranno il venerdì e il sabato, 9 e 10 settembre, e si esibiranno DJ di fama internazionale come Timmy Trumpet, Niki Romero, Vinivici, James Hype, Tujamo e molti altri, e poi ci saranno anche artisti italiani, comunque dalla trap wave italiana, come Rove, il creatore della hit Shakerando, che la conosciamo tutti, la sentiamo dappertutto poi ci sarà Tony F., direttamente dalla Dark Polo Gang, e poi Pachi sulla serata di sabato Si preannuncia un'edizione da tutto esaurito? Tutto esaurito quasi perché mancheranno 200 biglietti per la serata di sabato e per la serata di venerdì ce ne saranno disponibili ancora 300 che verranno venduti tutti in cassa qui all'ingresso del festival quindi vi consigliamo di arrivare un pochino in anticipo perché comunque la richiesta è molto alta Un altro fattore che ci ha colpito veramente tanto è stato comunque a vedere di aver venduto biglietti in tutta Italia e soprattutto all'estero, abbiamo venduto perfino biglietti negli Stati Uniti, in Australia, in Finlandia, in Repubblica Ceca, in Spagna, Germania, Francia e altri paesi dell'Europa, quindi ci aspettiamo veramente che il festival anche nel corso degli anni vada a dare un suo valore anche a livello internazionale, soprattutto al posto, alla valle che comunque è uno spettacolo paesaggistico L'area può ospitare 3.000 persone, infatti come abbiamo detto prevediamo il tutto esaurito per entrambe le serate e cosa che nessuno si aspetta perché comunque si pensa che sia solo un evento per giovani vedendo dalle vendite dei biglietti ci saranno anche comunque tante famiglie comunque anche gente, diciamo non della nostra età, diciamo un pochino più grandi che vogliono venire a godersi l'evento Dopo due anni di pausa, finalmente quest'anno si è potuto riproporre questo festival diciamo cosa vi augurate per queste due serate? Ci auguriamo la prima cosa che comunque la gente si diverta perché comunque dopo due anni di fermo diciamo che è stata un po' dura per tutti anche per noi organizzatori senza avere magari delle certezze e adesso comunque riusciamo a vedere una luce in fondo al tunnel e quindi prevediamo solo il meglio, non vediamo l'ora è doveroso dare un ringraziamento anche al comune, alle istituzioni che ci hanno dato una grossa mano e anche ai nostri partner e anche grazie a loro se siamo qui e se siamo riusciti a creare tutto questo